Buon pomeriggio a tutti da Belle Italia TV. Sapete che Belle Italia vuole raccontare a tutta l'Europa le ricchezze del nostro territorio. Oggi siamo in compagnia di Benjamin Zidaric, nella sua azienda di Prepotto, il paese della Vitoska, nel Carso Triestino. Il Carso è un crocevia di culture latina, miteleuropea e slava, un crocevia di confini Italia, Istria e Slovenia, un crocevia di panorami, panorami collinari, rocciosi e panorami marini, ma anche un crocevia di microclimi, il clima mediterraneo che si incrocia col clima continentale. Il Carso è la terra di Zidaric, rappresenta il suo modo di essere e il suo modo di pensare. Qui si producono vini secondo le usanze di una volta. Al centro delle produzioni i vitigni famosi del territorio, la Vitoska e la Malvasia, è il Terrano. Benjamin, cosa significa fare vino nel Carso? Ma prima di tutto bisogna avere passione, bisogna avere tradizione, bisogna credere in quello che si fa, assolutamente è la cosa più importante. Dopo io faccio viticoltore prima di tutto perché forse non so fare altro. Prima di tutto faccio un mestiere che mi piace tanto, mi dà delle grandi soddisfazioni e continuo a farlo. Speriamo che faranno anche i miei fili nel futuro. Ci vuole parlare dei vitigni dell'azienda e soprattutto dei vitigni che si coltivano qui in questo territorio particolare? Sì, noi soprattutto crediamo nelle varietà autoctone come la Vitoska, che è una varietà locale, autoctona, storica del nostro territorio. Dopo facciamo la Malvasia, che è anche un'altra varietà locale, antica, che è nata in Grecia ma dopo piano piano è arrivata fino al Carso. Ben sappiamo che in Italia ci sono altri dieci tipi di Malvasia, assolutamente però ogni Malvasia nel proprio territorio dà qualcosa di sé. Ecco, assolutamente un vino veramente ottimo, bello come gli altri, assolutamente. Dopo, come altri bianchi, abbiamo un poco di Glera, che è anche un'altra varietà autoctona, storica del nostro territorio, sempre stata. E dopo, come rossi, abbiamo il Terrano, che è un vino storico unico nel mondo, assolutamente. Un vino rosso che ha delle grandi potenzialità, assolutamente. Quando c'era l'impero austro-ungarico, questo vino qui veniva venduto nelle farmacie per i anemici, perché è un vino ricco di antiossidanti, soprattutto a tanto ferro, che veniva proposto soprattutto per le persone anemiche. E dopo qualcuno ha anche delle varietà storiche, antiche, come sono la piccola nera, ecco queste varietà che dopo piano piano sono anche scomparse nel arco dei decenni. Ecco, però piano piano si sta rivalutando un poco tutto, ecco queste varietà locali sono prodotte quasi da tutti i produttori piccoli, artigiani che abbiamo qua sul Carso. Ecco, ma prima di entrare nelle singole etichette, mi faceva piacere ascoltare invece la storia di questa azienda, mettendo in evidenza la sua filosofia, che è una filosofia che vuole proporre sul mercato vini non giovani, quindi tutti escono almeno tre anni dopo la vendemmia. Storia e filosofia, come la descriviamo per questa azienda? Sì, noi abbiamo intrapreso questa strada perché è il modo nostro di pensare, ma soprattutto di fare un vino di grandissima qualità, ecco perché per fare dei vini giovani è un gioco, fare dei vini giovani è una realtà che un produttore grande non può fare assolutamente, ecco perché per fare un vino buono, bello, prima di tutto un viticoltore per presentarsi deve avere minimo 10 o 20 annate sul tavolo e parlare ogni anno del proprio anno, perché fare dei vini giovani, freschi e uscire dopo due o tre mesi è come fare delle Coca-Cola, ecco assolutamente, ecco per questo noi abbiamo intrapreso questa strada tipica, tradizionale, come faceva mio nonno, mio bisnonno, mio trisnonno assolutamente, noi facciamo tutti i vini macerati con la buccia, abbiamo sposato questa filosofia, questa vinificazione storica come facevano sempre, non usando le aggiunte nel vino, soprattutto i leviti selezionati e altre cose che si usano nei vini, per questo il vino quando va in bottiglia deve essere stabile, ecco per essere stabile devono passare minimo due anni, due o tre anni assolutamente, perché se tu metti un vino in bottiglia dopo due mesi, dopo tre mesi, devi stabilizzarlo, devi fare dei lavori che io penso che il vino non vuole essere trattato in quel modo lì, ecco, dopo siamo andati su questa strada, perché ci troviamo prima di tutto molto bene, perché facciamo un vino prima di tutto che crediamo noi, e dopo prima di tutto io faccio un vino che piace a me, ecco, dopo sperando che piaccia anche ad altri, ecco, ci stiamo accorgendo sempre di più che i nostri vini migliorano negli anni, ecco, penso che un grande vantaggio è una battaglia sicuramente vinta, perché aprendo dei vini Zidaris dopo cinque, dopo dieci anni hai delle emozioni veramente uniche, ecco, invece sui vini giovani, bianchi, queste cose sicuramente non succedono assolutamente. Quindi il tempo disteso che dedicate alla conservazione del vino e l'uva, che è il prodotto vero della vostra, della materia prima su cui create questi prodotti di alta qualità, sono gli elementi di differenziazione della vostra collezione, quindi il tempo disteso, la tradizione, dedicare il tempo giusto. Ho letto un'intervista dove lei dice, io non uscirei mai prima dei tre anni, cosa vuol dire? No, è molto semplice, per fare un grande vino ci vuole prima di tutto la vigna e ci vuole prima di tutto il territorio, ecco, ci vuole soprattutto l'impostazione nella vigna fatta in maniera professionale, ecco, noi abbiamo quasi tutti i vigneti a alta densità di impianto, 8.000-10.000 cpi per ettaro, produciamo circa 20-30 quintali all'ettaro e questo ci permette di fare di vini veramente di altissimo livello, che dentro c'è tutto, c'è tutto quello che deve avere un vino, assolutamente, ecco, per questo un vino non è pronto subito, bensì ci vogliono dei anni prima che il vino sia completo, sia pronto per andare sul mercato. Dopo, come ho detto prima, il vino quando va in bottiglia deve essere stabile e per ottenere la stabilità devono passare minimo due, tre inverni, perché d'inverno c'è freddo e il freddo decanta e pulisce il vino. Ecco, parliamo della Vitosca e della Malvasia, sono due vitigni a bacca bianca e il Terrano invece è un Re Fosco dal Peduncolo Verde, ma c'è un vino che è stato creato proprio da lei, che è la sua passione, il Ruie. Ah, il Ruie, sì, sì, il Ruie è un rosso che noi lo produciamo già dal 99, è un rosso che viene affinato a minimo 5-6 anni nelle botti di rovere prima di uscire sul mercato, per esempio adesso siamo usciti sul mercato con la nata 2015, è un vino rosso che comprende sia Terrano che Merlot, ecco, perché io sono un poco appassionato di grandi vini rossi, soprattutto della Francia, ecco, soprattutto grandi Bordeaux, ma anche grandi Baroli, ecco, sono molto appassionato di grandi Baroli, per questo ho fatto un vigneto di Merlot nel 93 e dopo ho aggiunto il Terrano e ho ottenuto questo vino. Il nome Ruie è un toponimo, praticamente è un nome originale di questo territorio che comprende queste due varietà che escono dopo 6-7 anni, ecco, è un vino che io amo tanto, ma anche vedo il mercato lo recepisse molto bene, assolutamente, ecco, soprattutto è un vino che ti dà una grande emozione bevendolo e dopo è un vino che ti impressiona, ecco, che ti dà sempre delle emozioni nel bicchiere, sempre uniche, veramente è una cosa molto bella, ecco. Io posso dire di essere un testimone di questo Ruie del Terrano perché mi sono emozionato quando avete la possibilità di aprire a pubblico, voi aprite tre volte all'anno, però le degustazioni e le visite si possono fare tutti i giorni. Come si possono mettere in contatto con voi i gruppi che sono interessati a partecipare a queste degustazioni? Sì, assolutamente. Noi, come i miei nonni, bisnonni, in questo territorio c'erano le osmize, ecco. Le osmize sono praticamente delle frasche, è una legge austro-ungarica che permette al produttore, al contadino, di aprire le proprie case al pubblico minimo otto giorni. Questa legge dopo è stata un po' modificata e qua sul Carso ci sono oltre 100 osmize che sono gestite dai contadini che aprono le proprie porte, le proprie case al pubblico due o tre volte all'anno, ecco, dopo bisogna avere delle autorizzazioni dal comune, dell'azienda sanitaria, insomma, tutte queste cose. Si può vendere solo dei propri prodotti, assolutamente. Noi abbiamo anche 20 suini che leviamo ogni anno e dopo li vendiamo, per quanto riguarda i salami, i prosciutti, i pancetti, quello che si ottengono di suini, li vendiamo direttamente qua al pubblico, insieme al bicchiere di vino, il pane, le uova sode, tutte quelle cose lì, ecco, assolutamente, ecco. In quegli otto giorni, qui è sempre pieno e bisogna prenotarsi, ma le degustazioni invece possono essere prenotate. Sì, sì, beh, la nostra azienda è aperta tutto l'anno, ecco, per quanto riguarda l'acquisto del vino e per fare delle degustazioni nella nostra terrazza e nella nostra azienda si può fare in qualsiasi momento, però bisogna prenotare. Noi prendiamo solo su appuntamento queste degustazioni, queste visite guidate in cantina, ecco, perché così si può gestire bene, assolutamente, sennò diventa un caos assolutamente ingestibile, ecco. Quindi se venite in Italia, e speriamo che voi possiate venire in Italia, prendete un appuntamento con Zida Ricce, scoprite la sua cantina e venite a fare la degustazione dei suoi vini. Parliamo della cantina, la cantina è scavata interamente, dopo l'andremo a vedere, interamente nella roccia con una profondità di 20 metri e si sviluppa su cinque piani complessivi, costruita con risorse locali. Quali sono le caratteristiche che vi distinguono su questa cantina? Caratteristiche sono tante, prima di tutto bisogna sofframarsi che è una cantina fatta con solo materiali naturali, ecco, dunque è una cantina fatta col concetto di una grotta e abbiamo creato un mondo, un mondo sotterraneo che ci permette di lavorare tutto in maniera naturale, utilizzando solo materiali naturali, praticamente tutto il materiale che abbiamo scavato da questo scavo lo abbiamo tutto recuperato e riutilizzato per fare la cantina, praticamente nella nostra cantina trovate solo pietra del carso e solo pietra è il materiale di questo territorio, neanche un pezzo di pietra non è arrivato di un altro territorio. Qua abbiamo il carso a 360 gradi, 100% in questa cantina che è stata creata dopo 10 anni di duro lavoro a 23 metri di profondità, 5 piani che ci permettono di lavorare tutto per gravità e tutto a caduta assolutamente e per quanto riguarda i lavori vengono svolti anche in maniera molto molto semplice, ci sono tre entrate e tre uscite più il lift, il montacarichi che gira su e giù, in più sotto la vigna qua vicino abbiamo altri tre piani dove abbiamo il magazzino, dove abbiamo le bottiglie che si stanno affinando, stagionando e adesso stiamo ampliando la cantina, stiamo ampliando un posto sotterraneo dove stiamo facendo un panteum a 20 metri di profondità che sarà collegato col cielo, con la luna, con le stelle e col sole, praticamente per aumentare la produzione in pietra perché noi facciamo una piccola parte anche il vino fermentato e affinato nelle bottiglintini di pietra. Quindi diciamo che in questo periodo di pandemia dove la globalizzazione ha dimostrato le sue fragilità e dove la tecnologia, il progresso tecnologico ci ha presentato un conto, un conto importante, voi siete la dimostrazione che il locale può essere il futuro, il locale, la natura, l'ambiente, il rispetto dell'ambiente. Come vive lei tutti questi argomenti che si affrontano sulla transizione ecologica, sulla transizione digitale, la tecnologia sta fuori da questi confini oppure voi la potete cavalcare con questo modo di pensare il territorio? La tecnologia sicuramente è una novità, dopo è una idea sicuramente giovane che in questo momento qua funziona veramente tanto, funziona soprattutto per le grandi aziende. Io penso che un piccolo produttore artigiano non ha bisogno di tecnologia, dopo dipende su che strada vuole andare, cosa vuole ottenere, la cosa è sempre basata sul produttore, sul proprietario, sul contadino, su quello che vuoi fare della vita, su quello che hai deciso di fare, assolutamente. Comunque noi siamo orientati sul concetto di fare dei vini tradizionali legando il territorio soprattutto con la semplicità, che alla fine la semplicità in questo momento qui è la cosa più difficile, più importante su quelle cose lì. Noi abbiamo deciso di fare dei vini molto legati al territorio, molto carsici, alla fine anche molto semplici. Facciamo vini così con le gradazioni molto alte, facciamo i vini molto equilibrati, molto bevibili, vini che ogni persona quando bevono zidari sicuramente si ricordano e cominciano anche a capire il nostro territorio, che è il Carso, perché noi siamo sul Carso, ecco il Carso è un territorio unico al mondo, fa parte del Friuli Venezia Giuria, però è un territorio veramente molto difficile, unico al mondo, perché prima di tutto noi abbiamo tutti i vigneti sulla pietra, abbiamo pochissima terra rossa, i vigneti sono tutti molto piccoli, sparsi sul territorio a macchia di leopardo, quasi tutti sono circondati con moretti a secco, dunque abbiamo una viticoltura eroica, una viticoltura unica al mondo, dopo abbiamo una cosa molto bella, una grande ricchezza, che abbiamo tutte le vigne che sono girate verso il mare, infatti quando venite qua nella nostra cantina, dalla nostra cantina si può vedere da Cortina fino a Venezia, in più si può vedere la Dalmazia, l'Istria, la Slovenia, ecco ci sono questi tre stati che si vedono... Un'groceria importante, un territorio unico, un territorio che viene rappresentato anche nelle sue particolarità dal vostro logo, perché il vostro logo è una zeta al contrario, che riprende dei filari di vigneti, oltre ai muretti a secco, come è nata questa idea del logo? Ma l'idea del logo che ci rappresenta, e quel logo lì lo portiamo sempre su tutte le etichette, su tutte le cassette, sul sito, ecco dappertutto, se non scrive Zidaric, quel logo lì significa Zidaric, assolutamente, però è un logo che è nato dal capitello di pietra della casa del 1800, sempre della nostra famiglia, e dopo l'abbiamo un poco tagliato a metà, abbiamo aggiunto delle altre cose, però tutte le cose vere che fanno parte di noi, della nostra storia, del nostro territorio, praticamente abbiamo aggiunto dei filari delle vigne, abbiamo aggiunto dei muretti a secco, abbiamo aggiunto del ferro di cavallo che porta fortuna, abbiamo aggiunto la zeta all'incontrario di Zidaric, abbiamo aggiunto del vento, della bora che abbiamo qua, abbiamo aggiunto della planimetria della cantina, ecco è un piccolo DNA che rappresenta l'azienda Zidaric. Bene, su questo DNA magari possiamo comunicare ai nostri telespettatori come possono fruire di questo prodotto attraverso il vostro sito Zidaric.it, mi pare che sia, giusto? Sì, sì. Zidaric.it, possono prendere contatto direttamente con l'azienda, qui abbiamo tre bicchieri, non sono due, e non abbiamo ancora bevuto, quindi sono tre bicchieri, il terzo bicchiere è un bicchiere in pietra, cosa significa questo bicchiere? Sappiamo che lei preferisce bere il vino dal bicchiere in pietra. Sì, questo bicchiere qui è un bicchiere mio personale che io bevo volentieri in questa ciotola, praticamente è un bicchiere perché significa per me il vino del carso, ecco, perché noi abbiamo tutte le vigne sulla pietra e le radici delle vigne vanno in profondità, si nutrono con i minerali e con tutto quello che trovano sotto, dopo trasmettono nell'uva e dopo l'uva una volta raccolta ritorna di nuovo nello stesso materiale, no? Per questo nel 2011 abbiamo cominciato a fare il vino in pietra che si chiama Kamen, che vuol dire pietra o stone in inglese e o stein in tedesco, è praticamente un concetto che a me mi piace tanto, ma soprattutto adesso amplieremo anche la produzione di questo prodotto che funziona veramente molto bene, ma anche è un veicolo per parlare del carso che è una cosa molto bella, soprattutto la cosa molto bella è avere i vigneti nella pietra, produrre, fare produzione, raccogliere i grappoli, i grappoli vanno a finire nei tini di pietra dove comincia la fermentazione, dopo si svina, si rimette il vino nei tini di pietra e dopo il vino si beve nei bicchieri di pietra, ecco, è un concetto, è una filiera a 360 gradi che funziona veramente molto bene, ma soprattutto di altissima qualità unica al mondo. Quindi si può fare impresa, si può fare impresa con il locale, con alta qualità, valorizzando il territorio, valorizzando la natura e da questa natura esce un prodotto di altissima qualità come il vino Zidaric. Facciamo un brindisi, ringraziamo Benjamin e continuiamo la visita alla cantina. Grazie. Grazie a voi, grazie, grazie. Buono.